Abbiamo organizzato un corso nell'ambito della ristorazione con competenze sia di cucina che di sala per ragazzi seguiti appunto come dicevo dai tre CIS. Questi ragazzi seguiranno un corso della durata di 300 ore che prevede anche un periodo di stagio in azienda e avranno lezioni sia nel laboratorio di cucina come quello che state vedendo in questo momento e nel laboratorio di sala e di barra. L'obiettivo di questo percorso è proprio un inserimento nel mondo del lavoro del settore ristorativo. I ragazzi imparano cucina, un pochettino di pizzeria e anche di pasticceria in modo tale da avvicinarli al mondo del lavoro. Sono molto svegli e danno un sacco di soddisfazioni perché sono anche molto simpatici. Oltre alle attività di cucina abbiamo anche tutte le attività di sala e bar dove in sala ci occupiamo della preparazione della tavola e del servizio mentre al bar iniziamo con un po' di caffetteria per poi effettuare anche tutte le bevande, i soft drinks che vengono serviti durante il giorno. Con i ragazzi stiamo facendo un bel percorso, siamo molto felici di tutto questo. Il corso è adatto a noi docenti ma soprattutto ai nostri ragazzi di prima perché i nostri ragazzi lavorano con i bimbi perché sono piccolini i 14 anni e loro imparano dai nostri ragazzi ma soprattutto i nostri ragazzi imparano da loro cosa vuol dire un'attività esterna come questa. Vorrei fare i complimenti ai metro, agli chef, soprattutto alle segretarie e alla preside Luisella. Grazie a tutti.